2, 2, non lo fa! Per curare, ecco! Facciamo un nuovo, questa è la... Per me si parla di una pontezza più bella che è a camminare. Consideriamo l'anno 21, sì. Tanto sono arrivato a casa perché deve scappare più grande. Non ho miglioramento, ci sono i propagande per l'altra casa. Allargare ancora non scappare. Sono un soprammobili che vorrei avere sempre. Quindi è stata veramente una gran bella serata anche perché sono serviti per vincere. Avevamo partiti male perdendo in casa, quindi stasera ci tenavamo a far bene. Adesso abbiamo due settimane, la sosta ed è sicuramente meglio poter lavorare con più serenità e questo risultato ci dà serenità e entusiasmo per fare meglio. Scusami, ciao! Ti vuoi chiedi? Ciao! Ma c'era Prendelli in tribuna. Tu pensi di qualche maniera da dire per convincere di nuovo? No, no. No, no, io... Devo pensare a convincere qua, in società che mi ha dato fiducia, il mister, i compagni, quindi... Certo, il nazionale verrà. Verrà quando punturerò a fare gol. Tanto se non li faccio non ci spero nemmeno. quindi io devo pensare a fare gol, a fare bene e poi vediamo. C'è un po' per la televisione francese. Io ho una domanda e ho la stessa domanda al mister. Cosa ha detto a... Aspetta, aspetta, aspetta. Mi torno. Scusa per l'italiano. Scusa per l'italiano. Ok. Io sono un po' più vecchio, quindi io che sono un po' più vecchio, io ho dato un consiglio. Mettiamo a fare l'uomo e basta. Il mister Aregli, lei cosa ha detto a Gnon quando è entrato nel compo che ha giocato i primi minuti? Niente, ragazzo che è giovane, ragazzo che non ne vado a sapere le responsabilità e non so se non mi sono stato fatto sentire parte di questa squadra, hanno dei detenti di crescere. I soli minuti che ha giocato o che ha fatto? Quanto fa? No, grazie. Si è subito Palazzo, è assoluto che ha... prende velocemente quello che si dice. Questo è un buon segno.